Questo meraviglioso concetto dedicato alla nascita di Vincenzo Pellini, perché proprio oggi, in 3 novembre, nasceva il ciclo catanese. Sono passati 222 anni dalla nascita di Vincenzo Pellini ed in conclusione della quindicesima edizione del Pellini Festival, il Duomo della città di Catania ha ospitato le musiche del grande musicista catanese. La cattedrale era gremita di turisti e cittadini assorti nel concerto di orchestra sinfonica diretto dal direttore d'orchestra Domenico Famà e dalla voce della soprana Natalia Roman. Abbiamo una bella orchestra, abbiamo Domenico Famà, giovanissimo, ma direttore d'orchestra famosissimo. Abbiamo nata lì una grande soprana a livello internazionale e si eseguiranno in prevalenza delle musiche sacre, delle musiche sacre, proprio perché siamo qua in un luogo sacro e così via. Musiche di Bellini e di altri autori. Il Festival Belliniano, arrivato alla sua quindicesima edizione, deve la sua creazione al direttore artistico Enrico Castiglione, di cui Mario Reitano, membro organizzatore del Festival, ha portato i saluti durante la serata. Un ringraziamento speciale è da rivolgere all'arcivescovo della città, che ha aperto invece le porte della cattedrale. Ora, l'importanza non è solo per i catanesi, perché Vincenzo Bellini è conosciuto per le sue opere, per quello che ha fatto in tutto il mondo. Noi stasera qua avremo parecchi turisti che in questo momento sono a Catania. Ed è una gioia. Dobbiamo dire grazie all'arcivescovo, perché ci dà la cattedrale per la chiusura del Festival Belliniano, ribadisco questa è la quindicesima edizione, e siamo felici tutti di chiudere in bellezza, potrei dire. Grazie.